ciao ciao veroni scusa mia ma se lascio non cresce più sai con un bambino ciao piccoli allora com'è andata ho preso il locale alla fine l'ho spuntata io lo sapevo che tipo resistere a te ciambella no grazie entro alla fine del mese apriamo e ci mettiamo d'accordo sul menù e tutto il resto non vedo l'ora così lascio questo cesso mio figlio vediamo se finalmente la drizza al culo monique si falli così perché non hai figli ma non sai cosa vuol dire crescere un serial killer addio me le scampi perlomeno questi collaborano cazzo è tardissimo devo andare oggi è una giornata ci sentiamo fammi sapere vai con le cipolle